Come sempre, cari amici, torniamo a parlare del gossip più sfrenato, soprattutto quando ci sono queste notizie che fanno veramente clamore. E infatti si parla di un colpo di scena vera e propria per il programma Uomini e Donne. Sapete che ci sono già delle troniste che ci sono già pronte per questa nuova edizione. Se ne sono contate quattro, si parlava di Ida Platano, solo che c'è un attimo in umbilico. Ma cerchiamo di fare chiarezza perché questo colpo di scena è arrivato così, all'improvviso, subito dopo l'ufficialità dei tronisti che già sono per certi, ovvero Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Solo che si era vociferato su una quarta tronista che sarebbe stata in teoria Ida Platano, invece le cose sembrerebbe che non stiano proprio così. O almeno, stando all'ultima conferma, è arrivata proprio da Medeo Venza, cioè uno dei massimi esperti di gossip e tv, insieme, quindi non solo, ma rafforzato dall'idea anche di Dejanina Marzano. Quindi, a Uomini e Donne manca soltanto la quarta tronista per andare a chiudere questo cerchio. Soltanto che Maria De Filippi non farà il nome di Ida Platano, questo è poco, ma sicuro. Quest'ultima non sappiamo se poi troverà comunque il modo di fare il suo grande ritorno di fiamma nel parterre in qualità di dama, ma non ci saranno sicuramente corteggiatori per il suo trono, questo sì. La notizia su Uomini e Donne sulla quarta tronista è giunta quindi da Venza, che è riuscito a fornire una descrizione abbastanza dettagliata di una donna che però capiamo immediatamente che non è Ida Platano. Anche nella giornata del 31 agosto ha postato una storia Instagram nella quale ha confermato in maniera ufficiale ciò che aveva detto soltanto pochi giorni fa. Quindi, vediamo chi si siederà sull'ambita sedia rossa. L'esperto ha scritto C'è un trono, ma è vuoto. Appartiene a una donna e qualche settimana fa, beh, io vi avevo dato l'indizio. Quindi è un qualcosa che lui aveva già in qualche modo detto. E l'indizio in questione è che si tratta di una ragazza biondina, ex fidanzata, tra l'altro, di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quindi qualcuno che sta sempre lì, che si conosce già. Non conosciamo ancora il nome effettivo e il cognome effettivo, ma l'identikit non è sicuramente quello di Ida Platano. Questo è poco ma sicuro. Occorrerà aspettare le prossime registrazioni per andare a capire chi sarà annunciata da Maria De Filippi e chi quindi affiancherà gli altri tre tronisti, quelli già che ci sono, quelli già ufficializzati, già presentati, già sicuri al 100%. Quindi aspettate le nuove notizie, vedremo e scopriremo insieme chi ci sarà.